non fai parlare lui vai è già avviato? no no questo è un gioco che abbiamo fatto come ritengo dato che i due geni qua presenti che voi non potete vedere li guardiamo stavano un po' un po' cancellati una volta ciascuno non è vero secondo noi è anche colpa mia si può cancellare un pezzo del video da notare che abbiamo già vinto comunque ricomincia il gioco magari ok senza nemmeno per me un tasto è un po' avvoluto allora il gioco il gioco consiste il gioco di ritengo consiste in una realtà di neanche voler un mondo dove gli astrioni e in questo mondo per l'appunto l'aeronia farà una fine molto inaspettata ma anche molto caratteristica comunque quest'aereo vola dentro e lo scopo è evitare gli astrioni quando le città sia la tastiera doppia buona e poi io come si fa prendendo su un vero l'aeronia di quelli veri proprio che guidano nello spazio come tutti sapete comunque dopo in 30 secondi adesso sono solamente 2 1 e 0 appaia questo pianeta che noi andremo a colonizzare non in questo gioco in futuro però almeno andremo a colonizzare in questo gioco quindi abbiamo vinto è stato molto difficile come avete ben visto è stato molto bello e complesso tuttavia possiamo goderci questo spettacolo della scritta buongiorno questo gioco è fatto male grazie